Signando di tur e qualità di ACI e di filosofia di ACI con il nostro piano di Gemi, mi devo riconoscere l'aspetto di ACI e la virtù di ACI del lavoro social che voglio esercire ACI in Arruva. E mi devo compartire un'opinione con il Presidente di Associazione che è il tema ACI, sicuramente questo lavoro dedicato a Bolsonaro. E mi spero che Bolsonaro per accedere e celebrare il compromesso di lavoratore social con il lema di buon vivere. A che non pari, guardando di usare la maniera di lavorare con il lavoro e gente che lavorano in area social, tog per me come finanziarmi tanto che ora comparte una preoccupazione, un lavoro grande con l'amiti. E questo è il tema di abuso sexual di Munchanà, in Arruva. Il nostro piano è cominciato a cercare di ACI e il nostro lavoro. Il nostro lavoro è iniziato a cercare di leggi, di procedura, per curare per il castiglio di più severo. Il nostro lavoro è iniziato a cercare di prevenzione e di educazione, chiaro, di lavoro importante. Il nostro lavoro è iniziato a mettere priorità e di attenzione, più priorità e più attenzione al lavoro social. Il nostro lavoro è iniziato a cercare di tutto ciò che abbiamo fatto. Il nostro lavoro è iniziato a cercare di un studio che è iniziato alla conclusione che il 99% di caso di abuso sexual è iniziato a cercare di persone che sono cercate di una famiglia, di una maggiore. Anche ho pensato che ci sono sempre iniziato a cercare di un'arco, di un'arco, di un'arco e di un'arco. e non ho visto che dopo ci sono state sempre fatte. Come mi chiede a questo, aiuta a pensare come si possa entrare il tema, come si possa entrare nella consenza di ciò, per aiuta a prevenire il dolore grande qui vivendo nella comunità. Sono un sindaco murista, sai che abbiamo studiato, abominciato profissionalmente, non ho visto che ci sono. Come mi chiede a questa, è un momento per cercare, un momento per voler la ha e un momento che ojalà poter sentire valore e apprezzo conoscere un team per travò grande con il vostro lavoro e con il vostro lavoro e con il vostro lavoro